sono nick garrappatero poi abbiamo sono junior j morgan michele cannibal che tonalità di voce c'è il cannibal hai sentito sempre molto esattamente ma una domanda che ci siamo posti prima insieme al buon pablo che ho qui a fianco a me scusa ancora per prima ma lo spagnolo intanto qua abbiamo uno spagnolo che quasi catalano dicevi con una cena con un accento molto marcato molto del sud o perché tu carlo e dondere de asturia e donna galizia come mai sarebbe bello adesso passo il fan carlos io lui traduce perché è vivito una buona temporada in spagna in valencia ho vissuto una buona temporada a valenza a parte gli scherzi ho vissuto del tempo che ha fruttato per la mia vita per che mi ha cambiato la vita in spagna a valencia dovevo rimanere qualche mese invece sono rimasto ben di più non conoscevo niente di spagnolo mi serviva per l'università ma non ero in erasmus quindi ho voluto vivere l'esperienza con spagnoli vivendo con spagnoli lavorando con spagnoli e quindi il velocemente ho imparato e mi è piaciuto tantissimo i primi testi delle canzoni mi hanno insegnato il primo spagnolo e da lì ho iniziato poi a suonare io prima facevo punk e ho iniziato a suonare diversamente e l'accento del sur perché perché è la mia tesi universitaria l'ho fatta su el seseo y el seseo andalusso sul dialetto dell'andalusia diciamo sulla pronuncia bisogna essere un po folli e molto appassionati per fare una cosa così evidentemente e quindi mi piace moltissimo l'accento del sud lo delinquente che re della frontiera tarifa mi piace io sono un suregno italiano perché mio padre era siciliano mia madre è pugliese di santa maria di leuca quindi sur già lo tengo nella sangre e in spagna mi sono trovato da dio anche valencia che non è così nel sud in realtà è molto molto mediterranea come città e quindi insomma l'accento per quello anche se poi ho vissuto a valencia realmente civili e granada ho vissuto per la tesi per facendo interviste e chiaramente insomma cortare le parole mi piace benissimo poi la prossima domanda che mi viene da farti è junior quanto che ne capisci di spagnolo niente però ti ho visto cantare prima nella canzone un po di spagnolo sì perché la canzone dipende come la melodia se conosci tanto di musica dipende la melodia di quella canzone devi capire dove va la canzone dove cosa dice anche senza nessuno che dirti questo è nessuno che spiega come cosa di cosa cosa dice la musica devi capire subito io sono persone così quando sento la musica la melodia mi dice subito cosa significa questa canzone anche chiede qualcuno cosa significa so che questa canzone questa melodia dice di una cosa di non so come dire in italiano come una cosa di la pur in inglese e qui mettiamo i sottotitoli ai cavoli vostri poi mi è piaciuta molto quella canzone porta pazienza non mi ricordo se è nuovo dicevo s os canzone di macaco grandissimo artista spagnolo con una vocalità incredibile che ha fatto dei featurings splendidi con gli ojos de brujo che è un'altra band a cui noi ci riferiamo tantissimo e di cui facciamo anche un paio di cover un sentire la musica che mischia anche gli ojos de brujo elettronica e cose classiche idem macaco molto spesso dei vocalizzi molto classici spagnoli flamenchi con una musica poi elettronica un beat elettronico bellissima canzone s os sul mare quello che porta cantarla chiaramente con junior anche per appunto junior che arriva dalla nigeria con una storia purtroppo simile molte altre migrazioni però fortunatamente si è risolta che siamo sul palco di sherwood insieme dopo cinque anni che ci conosciamo grazie alla musica e quindi meglio di così non può essere è una canzone abbastanza simbolo diciamo anche del nostro essere uniti assolutamente e si sente secondo me che è proprio vostra mi è piaciuto veramente un sacco forse non l'avevo sentita le altre volte può essere però veramente si sente che c'è c'è la storia dietro e vi accompagna e volevo chiedervi una cosa ci siamo visti in sherwood open live via web diciamo come ve la siete passata avete prodotto un materiale nuovo tu hai prodotto qualcosa di nuovo ho prodotto materiale nuovo da un mese e mezzo una bimba che si chiama nina che oggi ha assistito al suo primo concerto potente ti fermo perché intanto facciamo gli auguri di compleanno perché oggi è anche il tuo compleanno ieri ma oggi dipende sei fiscale adesso aspetta 26 minuti dopo la mezzanotte giustamente dici oggi insomma sì era il mio compleanno ho 37 anni festeggiati con la bimba con la mia musica con i miei fratelli io sono un figlio unico ma loro sono i miei fratelli acquisiti e poi in questo palco insomma quando mi hai chiamato per dire cosa ti sembra venire a sherwood il 3 luglio ho detto è una figlia è incredibile è una vita che voglio venire il giorno del mio compleanno scusate la digestione buonissimo il fritto mai mangiarlo quello prima di un live di due ore quello no però si insomma suonare oggi qua fantastico produzione dicevi bravissimo yes produzione no assolutamente niente benissimo perché perché allora cannibal allora noi non siamo molto tecnologici cannibal si io no cannibal cannibal production è timido a parte i video andatevi a vedere i video di cannibal perché sono assolutamente una bomba soprattutto i legni contro la sua testa sono la cosa migliore del mondo fantastici sì capra caprere 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 no aspetta aspetta caprere e questo lo monti poi questo voglio che lo monti no no perché allora dalla fine della band di quando eravamo in 5 e così ci siamo tornati al duo con un set che ha alcune cose nostre alcune cover ma un set che funziona bene abbiamo pensato adesso in realtà non di produrre nuove cose ma di incidere un disco del nostro duo quindi niente di nuovo ma qualcosa di palpabile io amo ancora la copia fisica anche se cannibal trapper nell'anima vuole sempre diventare più digitale e più etereo nell'aria fighissimo tutto ciò ma io sono ancora innamorato della copia fisica il libretto dentro guardarti le cose a me piace quello sono un romantico e allora ho detto cazzo cannibal secondo me se visto come sono andate le vendite degli altri dischi con tutta la band che sono andate benissimo in un DIY totale perché siamo autoprodotti ho detto che cazzo ci costa incidere 10 tracce 5 euro il disco perfetto direi perfetto ma è e comunque il progetto andrà avanti con nuove nuove idee o ma guarda adesso con un'assenza di concerti da un anno appunto adesso abbiamo questa estate un calendario di 16 date molto fiche nel senso qua piuttosto che l'idroscalo carroponte anche genova dai compagni dall'out out che andiamo adesso verso fine luglio quindi delle date importanti ci hanno chiamato suonare su dei palchi grossi è una cosa che ti misura anche nonostante tanti anni per la soddisfazione che hai hai dei fonici di un certo tipo e quindi un feedback di un certo tipo e quindi complimenti ancora a chi stasera lavorato per questo concerto assolutamente dopo di che assolutamente sì assolutamente sì dopo un anno così suonare così tanti live ci porta a dire iniziamo a farci sti 16 live e poi c'è ripeto la bimba che comunque ci segue però è sempre da calibrare ma infatti l'ho vista bellissima pacifica infatti cioè ragazzi portatevela come mascotte è anche vero che un backstage dove una bambina un mese e mezzo può stare è un 5 per cento dei nostri concerti dopo di che siano selvatici benissimo e con le prossime date io direi che qua possiamo anche salutarci perché qua a breve dovete anche rimettervi in strada per tornare verso casa e io vi ringrazio noi tutti vi ringraziamo per per essere stati qua con noi e quindi prossima data prossima oggi è il 3 prossima data facciamo l'8 luglio siamo in castello a brescia per una bellissima manifestazione della festa della musica organizzata la festa musica brescia bergamo sono candidate per la capitale della cultura e quindi ogni giovedì in castello c'è una band bergamasca e una band bresciana che si alternano sul palco e poi il 9 invece siamo all'out out a genova e 10 a casa riposare benissimo sappiate che abbiamo due bresciane che sono un bresciano e una bresciana che sono arrivate qua questa sera e fanno figa ma cazzo ma dovevamo trovarci per forza i garappateros anche qua ce ne abbiamo ovunque lì eppure sì ragazzi è così è il bello della nostra condanna bene io vi ringrazio ancora se posso un secondo solo madonna certo vi ringrazio di nuovo tantissimo per averci chiamato a un festival indipendente che sicuramente è diverso per molte ragioni e simile per molte altre a festival di radio onda d'urto che partirà da inizio agosto per tutto il mese di agosto assolutamente da sostenere sono di parte ma sono di parte per le cose indipendenti che hanno una sostanza radio onda d'urto ha sofferto tantissimo nell'ultimo anno è una radio senza chiaramente pubblicità senza sponsor vive dei tesseramenti quindi se non tesserarvi dico venite al festival a goderlo in qualche modo quest'estate dall'inizio di agosto più o meno fin verso la fine di agosto insomma sosteniamoci a vicenda l'underground network è importantissimo in questo momento assolutamente sia anche perché un calendario non da poco peraltro visto le date sono molto fighe e poi erano qua la settimana scorsa c'era Alciano c'era Andrea Cegna e gli abbiamo già infatti infatti fatto serata con loro a discutere proprio di questo dell'indipendenza dei concerti ecco scusa no figurati era proprio per sostenere e se non l'avete vista andatevi a rivedere perché c'è la diciamo la replica yes ancora grazie e buona buoni concerti buon tutto grazie grazie viva ciao grazie a tutti